affico questo per diciamo per praticità ecco quindi avendo un grafico con tutte le barre che poi questo è così ma volendo si può scegliere anche il formato cioè se non piace questo si può fare a torta si può fare in altri modi che adesso qua faccio tasto destro cambia tipo di grafico se non mi piace questo a colonne posso mettere linee a torta ognuno anche con con vari stili quindi questo a barre verticali poi c'è area insomma ci sono mappe superfici per varie cose per vari tipi di dati ci sono vari tipi di di grafici questo qui ad esempio si può anche trasformare in 3d ad esempio se io metto l'ultimo faccio clic su ok ecco che me lo cambia già così ci si capisce poco però se si ha la necessità di avere un grafico tridimensionale si può sempre cambiare oppure se lo voglio fare a torta classico vediamo un po così ok e lui me lo cambia ovviamente qui ci sarebbe da correggere alcune cose tipo il carattere la dimensione che si possono fare anche singolarmente però tutto sommato si può si può cambiare anche successivamente cioè se non mi piace un tipo di grafico lo posso cambiare dopo ovviamente come abbiamo visto se io premo da qui o da qui dove ci sono i filtri qualunque cosa vado a fare ad esempio scelgo una data metto primo marzo faccio ok lui mi aggiorna sia la tabella pv sia il grafico in automatico lo stesso se vado qui sulla tabella faccio seleziono che ne so alcune cose facciamo che seleziono queste cose qui faccio ok lui se trova perché qui ho messo un filtro se trova dei dati rispetto alla data che io ho messo allora mi aggiorna lo stesso in automatico i dati qui adesso c'è un filtro se io lo rimuovo ecco che qui mi mette mi aggiorna il grafico e mi aggiorna la tabella pv rispetto a quello che avevo scelto io prima se adesso lo tolgo cancello tutti i filtri ecco che mi riva di nuovo la capo mi mostra tutto quanto adesso per fare un altro tipo di chiamiamole finestrelle dove fare un'organizzazione migliore dei dati qui adesso diminuisco un attimino lo zoom sposto questo un po più in basso così ci sta tutto ecco qua più o meno dicevo vado qui in una qualunque cella della tabella pv non del grafico della tabella vado qui su analizza dove c'è scritto strumenti tabella pv qui ci ogni volta che io premo qualcosa sulla tabella pv mi escono queste due schede nuove queste due voci nuovi analizza e progettazione progettazione ovviamente posso cambiarci il colore posso fare quello che voglio insieme ad altre opzioni su analizza ce ne sono molti di più perché serve appunto ad analizzare i dati cosa c'è qui ci sono in questa parte parte qui dove c'è scritto filtra ci sono tre pulsanti connessione filtro inserisci sequenza temporale inserisci filtro dati adesso noi vediamo questo inserisci sequenza temporale attenzione se sto andando troppo veloce e ditemelo è così rallento anche un po di più dicevo c'è il pulsante inserisci sequenza temporale cosa ci dice excel ci dice consente di usare una sequenza temporale per filtrare i dati in modo interattivo con le sequenze temporali e più semplice veloce selezionare periodi di tempo per filtrare le tabelle pv grafici pv e funzioni cubo ovvero qui abbiamo la nostra tabella pv che contiene questi dati ovvero la data l'acquirente il tipo e l'importo e sono riportati tutti qui adesso come già detto selezionando una qualunque cella della tabella pv vado su inserisci sequenza temporale cosa succede succede che mi appare questa finestra dove lui mi dice di selezionare la data c'è la data dei vari acquisti fate da tutte le persone questo cambia ovviamente in base ai dati noi abbiamo messo dei dati di esempio ma se avete altri dati altri tipi di fogli excel con dati diversi qui usciranno voci diverse ovviamente quindi premendo ok selezionando e premendo che mi viene creata questa nuova chiamiamola finestrella a con la serna anche questa si può personalizzare si può cambiare il colore questa adesso lo porto un attimino più in giù così questo lo stesso ok diciamo così come tutte le cose si può ingrandire restringere cosa succede dicevo qui mi dà una sequenza temporale in base alla data che io ho messo qui ovvero qui tutti gli acquisti che sono stati fatti dalle varie persone queste ogni data come vedete c'ha il 2017 quindi lo stesso dal primo gennaio al 18 marzo che l'ultima sono sempre del 2017 sono dati fittizi di esempio e qui lui facendomi questa sorta di grafico finestrella lui parte appunto dal 2017 c'è da la prima data che è stata messa primo gennaio 2017 fino a oggi perché se io vado qui in basso c'è questa barra di scorrimento qui mi fa vedere i vari mesi con l'anno se scorro fino alla fine mi fa mi mostra tutto il 2021 quindi questo cosa sta a significare qui mi dice data ovviamente tutti i periodi qui mi fa mesi se io ci premo sopra mi da anni trimestri mesi e giorni cioè io posso fare un filtro di tutti questi dati in base ai mesi ai trimestri agli anni e giorni se io faccio anni ecco che lui mi dà solo gli anni ovviamente qua mi dice mi dà queste quadratini chiamiamoli così azzurri però se io ci premo sopra ecco che mi viene già fatto un primo filtro se io vado nel 2018 premo qui in questa casellina dove c'è l'anno 2018 ovviamente non c'è non è stato fatto nessun acquisto mi darà tutto vuoto ecco qua si cancella il grafico perché non c'è niente non trova dati e anche la tabella pivò non mostra nulla lo stesso se faccio tutto il resto qui 2021 c'è una cosa c'è la pizzeria ecco che me la mostra però se torno al 2017 mi mostra quasi tutti gli altri dati e mi aggiorna anche il grafico adesso cosa succede succede che ogni se sia che io abbia selezionato anni trimestri mesi oppure giorni quindi se voglio avere una cosa un po più approfondita qui ovviamente c'è il pulsante che se io lo premo mi non c'è la tutte mi ritorna da capo quindi annulla il filtro questo è un filtro ad esempio se io faccio mesi qui ai lati a ogni lato sia all'inizio sia alla fine c'è questa specie di barretta grigia che io se ci vado sopra col mouse posso trascinarla cioè in questo momento lui mostra tutto indistintamente ma se io ho bisogno di date giorni o mesi specifici con il mouse trascino fino a dove non mi serve vedere i dati ecco quindi ovviamente più vado indietro e più lui mi filtra le cose adesso se io vado qui mesi faccio anni ecco qui vado solo sul 2017 poi faccio mesi quindi lui ovviamente mi fa tutto il 2017 da gennaio fino a dicembre poi il 2018 in poi non me lo prendo in considerazione se io continuo a spostare lui adesso mi aggiorna ecco qua faccio gennaio ecco che mi aggiorna mostrandomi tutto quello che c'è stato a gennaio se io sposto a febbraio lui mi aggiunge anche quelli di febbraio e così se vado a marzo d'aprile in poi non c'è nulla quindi lui non trovando altri dati non aggiorna niente però se io continuo e ritorno indietro a febbraio ecco che lui mi cambia di nuovo tutto quindi questo qui è un ulteriore filtro è un ulteriore filtro infatti anche qui ogni volta che io cambio la data posso resettare sia da qui quindi qua c'è il pulsante che mi dice cancella il filtro quindi mi ritorna a mostrare tutto quanto da zero da capo però me lo dà anche qui io me ne accorgo perché ogni volta che faccio un filtro anche sulla tabella pv nel pulsante esce questa specie di imbuto se io vedo questo disegnino qui fatto a imbuto vuol dire che in quel punto preciso lì c'è un filtro quindi se io vado a cancellarlo da qui quindi da questo spazio mi vado a dire cancellami tutto e mostrami tutto quanto da capo viene cancellato anche qui se io qui seleziono che ne so facciamo vado qui seleziona più elementi gli dico selezionami dal 15 gennaio al 2 febbraio ok qui mi ha fatto il ha fatto il filtro quindi ha aggiornato sia la tabella pv sia il grafico però come vedete non ha aggiornato questo questo perché il filtro cioè il il grafico funziona a doppio senso solo con la tabella pv mentre il questo qui adesso resettiamo tutto metto tutto ok dicevo la sequenza temporale quindi questa finestrella qui funziona sia con la tabella pv che con il grafico appunto facendo vedere prima se io clicco su gennaio lui mi aggiorna tutti e due però se vado a fare la stessa cosa con il grafico quindi seleziono solo gennaio gli acquisti fatti a gennaio faccio clic su ok lui mi aggiorna la tabella pv ma non mi aggiorna questo qui infatti anche qui non dando non aggiornando la data non mi dà neanche la possibilità di azzerare il filtro cosa che invece qui ovviamente posso fare quindi questo qui diciamolo la sequenza temporale che questa finestrella qui funziona aggiornando sia la tabella pv e di conseguenza aggiorna anche il grafico ma il grafico non può aggiornare non aggiorna la sequenza temporale quindi se volete usarlo questo tenete sempre a mente questa roba qui come ho già detto anche questo ovviamente si può personalizzare in vari modi si può fare si può fare verde si può fare blu azzurrino o anche più scuro ecco si può dare un colore si può dare l'altezza delle celle si può far vedere che ne so la barra di scorrimento quindi si usa solo questa fino a fino alla fine oppure si può togliere l'intestazione però togliendo l'intestazione sparisce anche il pulsante del filtro o l'etichetta di selezione cioè questo qui questo rimane solo il diciamo la visualizzazione per anni trimestri mesi o giorni ecco quindi si può personalizzare però non così tanto come invece avviene col grafico adesso tutto chiaro finora si professore va bene ok quindi dicevo appunto per fare questo bisogna andare ricapitolando su una cella vuota della tabella pv premere il pulsante inserisci sequenza temporale e scegliere adesso lo rifacciamo su analizza inserisci sequenza temporale qui selezionare in questo caso data perché c'è solo quello lui trova solo le date questa sequenza infatti lo dice sequenza temporale lo dice il nome stesso cerca delle date non è che va a mostrare che ne so chi ha comprato cosa o cosa è stato comprato qui appunto sequenza temporale lui filtra in ordine cronologico in base al tempo ecco che qui noi abbiamo dato sui dati generici abbiamo messo delle date lui ovviamente le trova altrimenti la casella questa casella qui sarebbe rimasta vuota facendo clic su ok lui crea questo chiamiamolo a finestrella anche se non lo è comunque si fa vedere appunto in ordine di anni mesi giorni e trimestri tutti i dati da mostrare premendoci sopra fa il filtro fa il suo filtro e cambia anche ovviamente i vari aspetti poi andando qui su questo imbuto c'è scritto cancella filtro cancellando ritorna di nuovo tutto come era prima poi tornando per un attimo al grafico adesso mi grandisco ancora un pochino ok allora il grafico qui anche qui il grafico ha tre voci formato che è quello per personalizzarlo si cambia i vari colori gli sfondi l'altezza larghezza eccetera eccetera poi progettazione anche qui se io faccio così in base a quello che seleziono lui cambia che ne so faccio così me lo da cosa è anche più carino mi cambia la grafica ma mi mantiene sempre le stesse impostazioni quindi qui posso fare i vari filtri posso scegliere cosa mostrare cosa non mostrare eccetera eccetera qui se vado sul più anche qui posso personalizzarlo che ne so mostrare o no gli assi i titoli le etichette oppure la tabella o le linee della griglia la leggenda o le linee di tendenza se ho bisogno di avere certe cose a portata di mano qui vabbè sposta inverti insomma c'è un sacco di opzioni analizza analizzando ritroviamo la stessa cosa inserisci filtro dati inserisci sequenza temporale e stavolta abbiamo anche le connessioni filtro quindi se io questo qui adesso lo cancello e seleziono non più una cella dalla tabella pv ma seleziono il grafico vado su analizza gli rifaccio di nuovo sequenza temporale ovviamente mi ritrova di nuovo la voce data ok mi ricrea di nuovo questa cosa questa questa qui ma se io qui cambio data gli dico mostrami 21 gennaio ok qui doveva aggiornarsi ma come al solito excel non fa un cavolo vediamo tutto no allora si dicevo quello lì doveva aggiornarsi cioè questo si ok allora vediamo un attimo se adesso lo fa ok qua rimetto tutto ok quindi se io metto primo marzo qua dovrebbe uscirmi marzo ma non lo aggiornare che prima avrò uscito ok comunque facendo da qui il filtro dovrebbe aggiornare anche questo qui rispetto a quello fatto con la tabella pv adesso non lo aggiorna non so perché ma non esce qui neanche l'imbuto figuriamoci comunque quando excel decide di funzionare bene allora questo lo aggiorna adesso facendo così si vabbè adesso funziona a senso unico comunque dicevo rispetto a a fare la sequenza temporale dalla tabella pv facendola dal dal grafico lui questo qui me lo va aggiornare ovviamente aggiornandolo mi fa selezionare anche questo pulsantino quando voglio ripristinare tutto e lo stesso fa parte inverse e adesso lo cancello oltretutto non c'è solo questo perché se io riseleziono di nuovo il grafico faccio inserirci filtro dati cosa succede qui non mi mostra più la sequenza temporale come in questo caso ma mi inserisce un filtro per tutti i dati che io voglio vedere ad esempio voglio fare un filtro per acquirente per gli acquirenti quindi la mamma il michela il papà seleziono acquirente faccio ok qui cosa succede mi viene creata una nuova chiamiamola casella finestra che io posso ovviamente ingrandire e personalizzare a mio piacimento così fosse un po' troppo grande facciamo così ok che è direttamente cliccabile cioè se io premo qui vado su mamma mi aggiorna tutto cioè mi fa vedere soltanto le cose che ha preso la mamma se io vado su michela ecco che mi aggiorna in base a quello che ha comprato michela quindi mi fa vedere i biglietti i libri la musica l'autobus senza tenere conto della data cioè generico in genere il totale di cosa ha preso michela lo stesso di cosa ha preso il papà ovviamente lui mi mi fa vedere tutto quanto se il grafico l'impostato in un modo la tabella pv gli faccio vedere qui il totale ovviamente mi fa mi mi aggiorna in automatico tutte e due le cose anche qui ovviamente anche qua c'è il cancella filtro quindi mi ritorna come era prima o posso fare una selezione multipla cioè gli posso dire fammi vedere quanto hanno speso cosa hanno comprato mamma la mamma il papà lasciando perdere michela anzi no qui mi seleziona vediamo un po' se io tolgo michela ok allora mi fa vedere solo mamma e papà quindi ho tolto michela e vedo che in due hanno speso 1124 euro quindi il papà e la mamma sono due spendazioni incredibili incredibili togliendo il filtro ovviamente anche togliendo la selezione ritorna di nuovo tutto come prima adesso se io vado di nuovo qui sul grafico di nuovo analizza inserisci filtro dati faccio che ne so tipo tipo ok qui magari lo affianco faccio così adesso diminuisco qua mi grandisco un attimino qui vediamo che se io faccio ad esempio qui prendo la mamma qui ovviamente lui trova già cosa ha comprato la mamma e mi mi deseleziona tutte le altre voci ad esempio qui la mamma non ha comprato biglietti è logico che non posso premerlo cioè mi dà soltanto alimentari quindi posso vedere cosa ha preso la mamma cosa ha speso in alimentari in dentista oppure in carburante anche qui posso cancellare i filtri oppure posso fare una selezione multipla ad esempio voglio sapere chi ha preso alimentare i biglietti quindi deseleziono autobus carburante e tutte le altre voci ovviamente più cose tolgo più si aggiorna ecco qua sono arrivato alla fine quindi voglio anche qui mi ha messo in grigino cioè le voci sono nere ma quando sono deselezionate cioè che non hanno altri dati correleati sono in grigino chiaro in modo da differenziarsi dal nero delle altre voci facendo così io ho lasciato un filtro per alimentare i biglietti e qua la tabella pv e il grafico si sono aggiornati automaticamente dicendo che la mamma ha fatto spese alimentari e Michele ha comprato i biglietti ovviamente aggiornando anche il totale come sempre qui rimuovendo il filtro ovviamente anche il papà mi compare per essere selezionato se io premo solo il papà ecco che qui mi dice meccanico occhiali sport e pizzeria sono in nero perché sono le voci le cose che lui ha comprato le spese che lui ha effettuato le altre sono grigino chiare perché ad esempio il papà non ha fatto nessuna spesa per biglietti carburante autobus e tutte le altre stessa cosa se vado a selezionare Michela mi mostra solo le cose che ha comprato lei ma tutte le altre voci me le mette di questo grigino chiaro che mi sta a significare che lei non ha fatto non ha comprato nessuna di queste cose quindi facendo qui il filtro adesso mi mostra tutto ovviamente tutte le voci sono in nero quindi se voglio avere una cosa precisa che ne so sapere due o più tipi di filtri da avere per essere sempre più preciso nelle ricerche posso fare così vado sul grafico analizza inserisci filtro dati anche qui ovviamente se io vado a mettere nuove voci qua ad aggiornare i dati poi devo fare ovviamente aggiorna aggiorna tutti altrimenti tasto destro lo stesso aggiorna quindi lui se io metto qua dei dati nuovi non li aggiorni in automatico devo sempre premere il pulsante io dopo devo ricordarmi di premerlo dopo perché altrimenti lui non li aggiorna ad esempio facciamo mettiamo 15 agosto qui lo metto a sinistra aumentiamo un pochino 15 agosto mettiamo di nuovo il papà spiaggia perché per agosto la spiaggia tutto il giorno sparo una cifra a casaccio per tutta la famiglia metto 50 euro non so adesso i prezzi dei mari come sono però facciamo finta che sia così adesso ho aggiunto questo dato questa riga nuova quindi 15 agosto il papà la spiaggia ha speso 50 euro se io ritorno qui anzi questo lo rinomino per rinominare lo stesso o doppio clic sul sul nome oppure il tasto destro rinomina qua ci metto tabella pivò così almeno si capisce cos'è ovviamente non me lo mostra quindi devo andare su aggiorna aggiorna tutti adesso aggiornando dovrebbe aggiornare che qui vediamo ok dicevo ogni volta bisogna premere l'aggiornamento altrimenti lui non non lo riconosce non lo fa adesso anche qui lo stesso vale lo stesso discorso fatto con il grafico se io premo di nuovo qui una cella qualunque della tabella pivò ovviamente mi dà anche qua inserisci filtro dati premo mi dà la stessa finestrella ad esempio metto qui importo ok me lo posso spostare ad esempio qui vicino facciamo così un attimino ok se ad esempio da importo premo che ne so 80 80 euro ecco chi che mi mostra qui michela me lo dà anche qui michela ha speso 80 euro di autobus qua me lo segnala lo stesso michela in nero il 9 in nero ma gli altri due sono in grigio e se vado a vedere anche qui su tipo tutte le voci sono in grigio tranne l'autobus anche qui se io cancello il filtro mi mostra tutto e lo stesso se io seleziono faccio una selezione multipla mi premo qui seleziono ad esempio 235 poi facciamo anche 100 poi 74 lo stesso mi dice chi ha chi ha speso tutte queste cifre ovvero michela e il papà con le varie voci biglietti libri musica autobus e poi qui meccanico pizzeria sport occhiali e anche qui si vedono le varie voci in nero tranne la mamma che è in grigino chiaro e così anche qui i tipi cioè mi disse lezione a tutte le spese fatte dalla mamma perché non c'è qui resettando il tutto ovviamente si ritorna da capo ecco e sì vabbè qui è il solito il colore porta avanti dietro allinea ad esempio se io ho questa voce questa casella chiamiamola casella dell'importo ovviamente qualunque cosa se io ci vado sopra posso allungarlo allargarlo restringerlo oppure me lo posso spostare dove voglio se voglio ad esempio che questa casella rimanga bloccata vado qui cioè lo seleziono seleziono questa casella vado su allinea dove c'è opzioni opzioni allinea e gli dico blocca sulla griglia quindi io premo vediamo adesso che me lo dovrebbe dare blocca qui blocca sulle forme sì ciao excel sei di grande aiuto tu comunque deve bloccarlo adesso non so perché se questo è un problema della versione che ho voglio ricordare che io ho in anteprima l'ultimissima versione di excel la 2021 quella che uscirà tra qualche mese quindi bisogna vedere se questo è un problema di excel 2021 o meno comunque facendo così a linea quando excel decide di funzionare bene facendo blocca sulla griglia o blocca sulle forme questa qui non si muove più rimane appunto bloccata rimane tutto bloccato quindi non ho la possibilità né di selezionare né di spostarlo in alto in basso eccetera eccetera quindi quando voglio bloccare qualcosa faccio così andiamo se me lo dà dal tasto destro tasto destro anche qui c'è aggiorna o le rimozioni porta in primo piano modifica insomma impostazioni anche filtro dati da questa casella che gli posso cambiare il nome ad esempio se l'intestazione che è questa importo non mi piace più posso dare che ne so posso fare gli spese faccio anche qui posso decidere di ordinare di far vedere le varie voci dal più piccolo al più grande oppure dal più grande al più piccolo qui qui ho la possibilità di visualizzare o nascondere elementi qui mi dice nascondi elementi senza dati che non me li nasconde perché qua elementi senza dati non ce ne sono però se ci sono dei dati vuoti lui li toglie e qui posso scegliere cosa mostra elementi eliminati all'origine dati insomma c'ha varie voci se adesso qui visualizza intestazioni posso anche scegliere di non mostrare questo qui o di cambiarci il nome ad esempio invece di importo metto spese ok e lui me l'ha cambiato quindi volendo se non mi piace il nome l'intestazione che hanno queste questi filtri chiamiamole così perché sono filtri veri e propri tasto destro ultima voce impostazioni filtro dati e vado qui su didascalia mi cambio il nome altrimenti se premo su questa casellina la deseleziono faccio clic su ok e lui me lo toglie però facendo così mi toglie anche il pulsante di cancellazione del filtro quindi se io lo rimetto faccio visualizzare intestazione mi riesce di nuovo il pulsante di selezione multipla e anche quello della cancellazione del filtro quindi come vedete ci sono vari modi di filtrare e dimostrare i dati in base a tabella pv classica senza nulla così con il grafico grafico collegato alla tabella quindi qualunque io cosa vado a fare sull'uno o sull'altro mi vengono aggiornati tutte e due in contemporanea ma volendo se voglio essere più preciso con le selezioni più preciso con i filtri allora posso aggiungere anche il filtro dati voce per voce vediamo se qui mi fa ad esempio io premo questo vado su opzioni colonne qua ce ne sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici ecco se io qui su colonne metto undici premo invio ecco come mi esce se io adesso allargo mi mostra tutto con l'aspetto orizzontale ecco ad esempio undici voci sono un po' troppe ritorniamo a uno quindi mi mette tutto in verticale però se io questa qui che ne ha soltanto tre quindi faccio tre ecco qua che sposto un pochino ok questo posso anche diciamo farlo così cioè invece di avere tutte le voci in verticale se sono poche comunque posso metterle in orizzontale oppure come ho già detto questo ha undici cose posso metterlo qui sotto me lo allargo quanto voglio così ok quindi posso dargli anche un aspetto diverso lo stesso se lo voglio differenziarlo da tutti gli altri gli posso cambiare il colore però il funzionamento non cambia cioè qualunque cosa vado a premere o resettare anche qui gli aggiornamenti ce li ho comunque quindi posso dare un filtro tanto qui lo cancello posso dare un filtro direttamente dalla tabella pv ad esempio se io voglio le voci dalla z alla invece di dalla a alla z lo stesso mi viene aggiornato il il grafico ma anche se rivado di nuovo dalla a alla z e filtra che ne so solo mostro solo la mamma ecco qui che sott'occhio in maniera visiva sulla tabella pv mi dice che la mamma ha preso alimentare carburante dentista per ogni queste voci ha speso tot con in basso il totale complessivo di tutto quello ma gli stessi dati ce li ho anche su queste caselle perché mi mostra la mamma selezionata in blu mentre le altre due voci sono bianche tipo alimentari carburante dentista sono in verde più scuro rispetto agli altri che è verde più chiaro con la scritta grigina quindi questo sta a significare che la mamma ha comprato queste tre robe e ha speso questo perché anche qui ci ho cambiato il colore l'ho messo sull'arancione le voci corrispondenti quindi sono di una pesca chiamiamolo color pesca se ma non è proprio arancione un color pesca più scuro rispetto all'altro che è più chiaro lo stesso le scritte da nere sono diventate grigie ovviamente anche qui il grafico si adatta di conseguenza cancellando ecco che riappare tutto quanto o se no voglio sapere chi ha preso gli occhiali premo qui gli occhiali uguale mi dice che è stato il papà che è la stessa cosa che ritroviamo qui piccola nota adesso cancello il filtro piccola nota per chi avesse la necessità di stampare su carta tutto questo ovviamente si può stampare se io vado se io vado su file vado qui faccio stampa ovviamente lui mi dà l'anteprima del foglio qua posso scegliere come orientare se faccio orienta verticale ecco qua che già mi mostra molta più roba quindi se dovete stampare qualunque cosa prima fate l'anteprima vedete com'è siccome qui vedo che la tabella pivò il grafico rientrano nel foglio ma gli altri il tipo le spese no quindi se voglio farci stare tutti in un foglio che sia orizzontale o che sia verticale come in questo caso neanche tutto il grafico ci sta mettendo in verticale regolatevi poi su excel cioè rimpicciolite o spostate rifate di nuovo la stampa fino a quando non vedete che ci entra tutto nel foglio se no qui adatta foglio su una pagina qui mi dice nessuna scala se io faccio adatta foglio ecco che me lo adatta faccio orizzontale si si può vedere ma se sono cose troppo piccole di conseguenza è questo venendo rimpicciolito perché se no la sua dimensione normale sarebbe questa per farci lo stare tutto in un foglio se io faccio adatta foglio su una pagina lui mi fa mi rimpicciolisce tutto quanto in modo che rientri la visualizzazione nella pagina però ovviamente essendo più piccolo questa adesso me l'ha rimpicciolito di poco ma se ci sono tante cose e questo rimpicciolimento si fa sentire prendete considerazione il fatto di spostare le varie cose fino a quando non ci sta tutto nei margini senza ridurre di dimensione tutto quanto poi qui ovviamente mi dà varie voci qui mi dice anche adatta tutte le colonne su una pagina ma qui colonne non ce n'è casomai andava fatto nell'altro foglio dati lo stesso adatta tutte le righe su una pagina ecco qui che me lo ingrandisce perché ci sono più righe ma ritorna come se avessi messo nessuna scala anche qui qui ad esempio se faccio orientamento verticale e gli metto adatta il foglio su una pagina anche qui che anche un cieco perderebbe la vista o quasi perché essendo il foglio in in verticale va a rimpicciolire ancora di più rispetto a quanto invece succede con l'orientamento orizzontale giustamente direi anche quindi se volete stampare qualcosa prima andate su stampa vedete l'anteprima se provate a fare qui l'adattamento adatta foglio qua vi dirà nessuna scala se ci premete fate adatta foglio su una pagina se vedete che così è troppo piccolo allora cambiate l'orientamento del foglio fate da verticale a orizzontale magari ve ne stamperà qualche foglio in più però almeno si può vedere comunque regolatevi sempre caso per caso in base a quello che avete voi altrimenti andate a rimpicciolire tutto ciò che avete messo in questo caso ci sono un grafico tre caselline di filtri io ad esempio spese posso portarlo qua giù questo andrebbe anche bene magari un po' più piccolo e tipo lo rimetterei di nuovo non così in orizzontale ma in verticale come su spese in modo da ridurre ancora di più la dimensione e farcelo stare tutto come dicevo valutate volta per volta qual è la cosa che vi viene di più ultima cosa per concludere sulla stampa vedete qui che io ho messo tutto in la visualizzazione delle varie voci in orizzontale però è troncato cioè alimentari mi da alim tre puntini non mi da il nome intero lo stesso l'autobus mi fa out perché ovviamente ci sono alcune voci che hanno che sono più lunghe delle altre e quindi necessitano di più spazio per essere visti tutti ovviamente più a largo se devo appunto stampare vado su stampa ecco cosa esce cioè qui perché ho messo adattafoglio su una pagina ma se faccio nessuna scala ovviamente mi fa uscire tutto ritornando come prima quindi annullando qui quindi che ritorna con le voci tranne l'ultima perché ha solo cinque lettere mentre tutte le altre ne hanno di più se io faccio file stampa ovviamente anche stampando il foglio mi stamperà le voci troncate anche se io vado a mettere adattafoglio su una pagina lui me le tiene sempre troncate quindi se io ho la necessità di stampare questo foglio e darlo a un'altra persona o a più persone se devo stamparlo in più copie e darlo a più persone chi vedrebbe questa cosa direbbe sì ma cos'è cioè dovrebbe cercare qui cosa vogliono dire queste voci troncate o cercarle da qui sempre che non abbia messo altri filtri perché se io vado qua che ne so faccio vediamo un po' data se io faccio voglio stampare solo tutto ciò che è successo il primo marzo ad esempio mi fa l'aggiornamento ovviamente se vado su stampa faccio orizzontale e mi mostra tutto non so neanche perché vediamo un po' ecco qua ovviamente ho messo un filtro e lui si è comportato di conseguenza e quindi ciò che io vedo sullo schermo poi se vado a stamparlo lo vedrò anche sul foglio altrimenti se io voglio stampare sì il foglio però non voglio mostrare tutto sto ambaradan adesso qui cancello il filtro quindi ritorno come era prima ad esempio io voglio mostrare soltanto il grafico non voglio mostrare voglio stampare il grafico senza stampare tutto il resto cosa succede premo il grafico quindi ci faccio clic sopra con il mouse vado di nuovo su stampa file stampa lui mi fa stampare solo il grafico anche qui come ho già detto qua ci sono orientamento orizzontale verticale diciamo orizzontale ecco così qui bisogna bisogna fare un attimino attenzione perché non consente di ridimensionare cioè se va fuori del bordo stampa più pagine ecco non è come come prima che mostrava tutti i dati gli si poteva rimpicciolire in modo da starci dentro in un solo foglio no così no quindi se il grafico è molto grande c'è la possibilità che vada a stampare più pagine non è in questo caso altrimenti qui avrei visto pagina 1 di 2 3 4 5 quello che è si vedono data e somma di importo cioè i filtri che ci sono acquirenti tipo ovvero queste caselline qui non mi mette il più e il meno vediamo se me lo mette ma mi sa di no no infatti non me li mette qui si può scegliere i margini larghi stretti ovviamente normali il tipo di carta che è una 4 adesso non so perché mi ha messo un altro tipo di carta ma è questo per far sparire queste voci che magari sono brutte si torna indietro e da qui si vanno sposta i campi rimuovi campo impostazioni ecco layout e stampa quindi impostazioni campo layout e stampa cioè li dico visualizza o non visualizza le etichette del campo successivo alla stessa colonna visualizza o non visualizza in base se seleziono o meno sub totale la parte superiore ripeti inserisci riga vuota stampa interruzione di pagina mostra elementi premi di dati no quindi mostra etichetta gli elementi sotto forma di struttura quindi se io ci tolgo queste due se ci tolgo solo la prima faccio ok se io faccio vediamo un po' cosa mi esce qui su stampa continuo a metterli comunque ripeti etichette riga su ogni pagina stampata mi sembra no comunque anche qui ci sono sulle opzioni della tabella pv su stampa poi visualizzazione anche qui si possono ordinare in base all'origine i dati o non tenerne conto e ordinare comunque tutto quanto dalla la z filtri mostra totali complessivi per righe e colonne per l'ordinamento consenti più filtri di campo sì e no formato unisce all'ina al centro le celle con le etichette lo stesso per i dati salva origini dati col file attiva mostra dettagli aggiorna dati all'apertura del file e il testo alternativo se ci sono immagini qui immagini non ce n'è quindi non bisogna metterne comunque quando si va a stampare una cosa bisogna sempre tenere a mente queste robe qui quindi se io voglio stampare tutto faccio stampa e lui mi mostra tutto quanto qui ovviamente il il foglio 1 a 4 che c'è già al massimo gli si può dire fammi i margini più stretti fammi lasciameli normali o più larghi oppure qui fammi adatta il foglio su una pagina se è molto grande io ho la necessità di adattare tutto quanto a un foglio solo oppure adatta tutte le colonne su una pagina adatta le righe su una pagina insomma vedete voi quale va meglio in quel momento lì con tutto ciò che avete scritto con quello che è presente su Excel lo stesso poi qui stampa sul lato fascicola e come in Word le stesse cose stampa fogli attivi qui dice stampa fogli attivi cioè mi stampa solo in questo momento io ho il foglio attivo della tabella pv quindi mi stampa solo questo se io vado a fare qui di nuovo stampa infatti consente di stampare solo i fogli attivi ed è quello che mi mostra lui se io faccio stampa intera cartella di lavoro lui qui mi dà pagina 1 di 2 perché c'ho due fogli due cartelle c'ho tabella 1 e tabella pv se io premo su questa freccettina dove c'è scritto pagina successiva ecco che mi mostra la tabella dati cosa che prima no mi mostrava solo questo infatti se io torno indietro faccio stampa fogli attivi ecco che qui sparisce l'1 di 2 mi rimane 1 di 1 cioè mi stampa solo questo e basta se io ho un foglio di excel con più fogli vuoti cioè che ne so tabella pv tabella 1 tabella 2 tabella 3 tabella 4 qui la freccettina mi dirà 1 di x ad esempio se ho 4 fogli mi dirà 1 di 4 premendo su ciascuno vedo tutte le i vari fogli da stampare oppure stampa selezione consente di stampare solo la selezione corrente quindi io in questo momento selezionato ho messo qui ho cliccato sul mouse su biglietti vado su stampa stampa selezione ovviamente mi mostra solo quello che io ho selezionato se io adesso vado su che ne so qua ritorno da capo cancello tutto quindi voglio che quindi voglio solo stampare che ne so questo qui con il mouse ho selezionato tutte queste celle vado su file stampa ecco cosa succede mi stampa solo quello che ho selezionato adesso vediamo se fa anche con rente vediamo se mi fa fare la cosa quindi mi sa di no perché come primo qui mi deseleziona no allora posso farlo solo tra celle quindi io voglio queste e questa qui quindi facciamo così questo più questi due quindi lasciamo perdere papà meccanico pizzeria sport il totale quindi se vado di nuovo sul file stampa ecco qui cosa mi esce adesso ho detto orientamento verticale comunque mi stampa va a stamparmi solo quello che ho scelto lo stesso se io seleziono tipo faccio file stampa qui mi da tutto però se stampa fogliattivi no lo fa solo con il grafico cioè se io premo il grafico faccio file stampa lui mi mostra solo il grafico invece gli altri due casellina no quindi se io vado a premere solo questo faccio file stampa non non mi mostra non mi mostra solo quello lì mi mostra tutto quanto quindi anche qui vedete cosa prende cosa no poi logicamente se io torno sul foglio 1 dove ci sono tutti i dati vado a fare file stampa lui ovviamente essendoci pochi dati ci sta tutto in un foglio se io faccio orizzontale sì ci sta lo stesso anche qui però mi dico se gli dico stampa selezione mi fa mi mostra solo quello che ho questo qui l'ultimo ci ho premuto qui con il mouse sono andato qui ad esempio se vado su michela qui in alto faccio file stampa gli lascio stampa selezione ecco che mi mostra sono michela lo stesso discorso che vale che abbiamo fatto poco fa nessuna scala anche qui c'è adatta a foglio su una pagina ma qui essendoci una sola voce non deve adattare nulla quindi lo mantiene così se invece faccio questa selezione lo stesso file stampa è logico che mi mostra tutto quanto e vediamo qui ok così l'opposto ecco qua allora poi vista la stampa vista le tabelle pv come ho già detto qua ognuno analizza inserisce i filtro dati o inserisci sequenza temporale ovviamente crea queste caselle questi questi filtri perché alla fine sono proprio dei veri propri filtri perché se io qualunque voce premo lui filtra e mi mostra solo le cose che io ho scelto che ho selezionato e mi fa tutti i vari aggiornamenti connessioni filtro vedendo da questa casella che c'è filtra quindi c'è sempre strumento grafico o strumento tabella c'è la parte filtra dove abbiamo già detto ci sono tre pulsanti connessione filtro cos'è seleziona filtri da connettere al grafico pv ecco excel che sparisce di nuovo santa pazienza quindi rimettiamo di nuovo come era prima dicevo rimetto il filtro dati facciamo così ne facciamo solo uno ok ecco qua sì quindi questo filtra bene ok e allora connessione rapporto vabbè dice che la tabella pv è collegata sì ciao excel quindi qui dicevo c'è analizza inserisci filtro dati rimettiamo di nuovo vabbè ce lo lascio così tanto fa quello che vuole adesso se vado di nuovo su analizza mi fa connessioni filtro quindi questo che cos'è l'acquirente mi sta dicendo oh signore mio connessione filtro che mi dà appunto la connessione tra il grafico e la sequenza temporale o l'altro o il filtro dati quindi da lì posso cambiare io non lo faccio perché se lo excel si chiude perché oggi ha deciso di di farmi esaurire come al solito quindi se io vado qui di nuovo rifaccio analizza inserisci filtro dati adesso ci metto il tipo stavolta ripremendo di nuovo sul grafico questo lo sposto un po' qui ripremendo sul grafico quindi vado su analizza connessioni filtro gli posso dire al grafico di mostrare i dati su tipo cioè su questo filtro dati ma volendo ne posso scegliere anche un altro se ne ho più di uno nella casella mi viene visualizzato tutto ciò che riesci a trovare e posso cambiare in base a quello che scelgo qui ovviamente essendoci una sola fonte di dati me ne dà solo una se io ad esempio avessi avuto più foglie con più dati mi avrebbe mostrato molta più roba e avrei potuto scegliere più cose avrei potuto fare più selezioni più più altre cose ecco questo è solo ci sono solo pochi dati così giusto di esempio è logico che lui non mi può mostrare tanta roba però se voi in casa avete dei documenti di excel con tanti dati più cose avete più lui mostrerà più voci vi farà scegliere più filtri vi farà fare ovviamente comunque le funzioni basi sono queste poi qui tenendo sempre perché quando si seleziona il grafico escono le voci analizza progettazione come abbiamo visto adesso rimetto questo qui era sì questo perché è carino formato lo stesso sposta grafico vabbè lo dice consente di spostare il grafico in un altro foglio della cartella di lavoro ma non ha senso cioè non avrebbe senso spostare un grafico collegato a una tabella pv diverso discorso se io ho un grafico da questi dati quindi crea un grafico da questi dati e questa non è una tabella pv allora sì faccio inserisci qui scelgo un grafico qui mi dice grafici consigliati vediamo quali mi mette posso fare vediamo uno facciamo il classico ok ecco che lui mi ha creato un nuovo foglio con tutti i dati collegati in questo caso si avrebbe un po' di senso spostare il grafico che ne so o in un foglio già esistente oppure in un nuovo foglio se io faccio un nuovo foglio gli do un nome che ne so grafico ecco qui il grafico qua ovviamente avrò insomma d'importo insomma mi mostrerà varie cose in base a quello che poi andrò a selezionare se io faccio che ne so invece di selezionare tutto faccio carburante lui qui mi mostra il carburante e automaticamente me lo mostrerà anche su su grafico qua ovviamente c'ho la voce del filtro perché è stato messo un filtro se io cancello faccio cancella ritorna tutto uguale ritorna tutto anche qui però boh non lo so avere un un grafico separato da tutto il resto può andare bene in certi contesti ma non in tutti ad esempio in questo caso non ne vedo una così grossa utilità ecco quindi se io faccio invece di grafico consigliato gli faccio il grafico 3d ecco qua adesso lui ecco facendo così magari che io voglio non ho una tabella pv questa non è una tabella pv qua c'ho un grafico che ovviamente posso anche filtrare in base a quello che seleziono se adesso faccio primo faccio applica ovviamente lui mi dice primo gennaio mamma carburante quanto è stato speso vedo qui 80 se rifaccio di nuovo seleziona tutto ovviamente mi mostra tutto quanto però diciamo non è una tabella pv questa questo è un semplice grafico collegato a questa tabella allora sì che posso andare su progettazione sposta grafico lo faccio su un nuovo foglio ok mi occupa tutto lo spazio in questo caso sì in questo caso posso farlo infatti se vado su foglio 1 qui non c'è più me l'ha spostato me l'ha messo qui in questo caso avrebbe anche un pochino di senso ovviamente se io vado a stampare lui non ci sono più celle non ci sono più righe non ci sono più colonne come in un foglio normale che ci sono le celle le righe mi mostra soltanto il grafico quindi se vado su file stampa ovviamente tutto il foglio mi esce soltanto il grafico anche qui posso scegliere l'orientamento ma essendo molto grande è meglio qui avere il foglio verticale comunque se io voglio stampare due fogli in uno ci sono i dati e nell'altro c'è il grafico oppure voglio stampare solo il grafico allora si può fare anche in questa maniera ovviamente qui lo stesso posso cambiare il font la dimensione i colori insomma ci posso fare tante cose anche qui posso scegliere un disegno ecco così posso sceglierlo diverso non posso aggiungerci nulla perché come ho già visto non ci sono righe non ci sono celle non ci sono colonne non c'è niente di niente c'è solo il grafico che io volendo posso anche cambiare che ne so cambia tipo di grafico lo voglio a torta così facciamo così ok ecco qua non si capisce niente però mi ha cambiato il grafico posso fare solo questo e poi ben poca roba cioè posso ricambiarli di nuovo di nuovo il tipo di grafico farlo colorato mostrare non mostrare le varie voci insomma non posso farci tanto ecco però se serve soltanto per essere stampato questa può essere una buona una buona cosa adesso lo cancello questo elimina ok quindi ritorniamo qui quindi avete capito a cosa serve tutta questa roba effettivamente è un po' complesso però qualcosa di utile c'è insomma qualcosa che ho presto basta dirmi basta che mi diciate cos'è che volete che rispieghi cosa cosa non avete capito per me è abbastanza esaustiva la cosa solamente occasioni vere di poter fare un lavoro del genere esatto esatto no di solito anche per me la stessa cosa sì 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 allora queste cose ovviamente per chi non lavora in un ufficio o comunque non ha a che fare con certe situazioni diciamo così lavorative o non ovviamente questa roba qui potrà capitare di usarla una o due volte non di più però è bene sapere che cose io prima sorvolavo non volevo neanche saperlo e poi chissà anche se non la usiamo abbiamo imparato qualcosa in caso di necessità si può fare sempre qualcosa adesso continuando lasciando perdere adesso le tabelle pv perché ormai è tutto questo non è che ci sia altro da spiegare cioè come ho già detto i dati li mette lui in automatico si può scegliere se abbinarla o non abbinarla a un grafico e questo a sua volta si può scegliere cosa mostrare o cosa non mostrare ritornando qui adesso faccio un po' di zoom indietro sempre se excel non fa le bizze no cos'è un po' piccolo così ecco quindi adesso questo qui l'abbiamo tutto visto qui c'è sempre trova eccetera eccetera qui adesso cancello quindi elimino tutto questo lavoro fatto finora quindi la tabella pv l'abbiamo vista qui possiamo diciamo non solo come visto la volta scorsa e anche che più o meno è presente anche su word cioè qui possiamo dire come mettere le celle addirittura che ne so se io scrivo qui faccio un esempio abbiamo data quarente tipo anzi questo li metto tutti in grassetto ok qui che ne so possiamo metterci vediamo un po' facciamo che ne so vediamo un po' spese familiari ok spese familiari lo faccio un pochino più grande questo non so anche questo quanto possa essere inutile però andando qui su questo pulsantino orientamento posso fare il testo verticale che mi viene la casella gigantesca la cella gigantesca oppure fare ruota verso l'alto ruota verso il basso insomma posso farlo anche così me lo sposto qui qui se non lo voglio così grosso ovviamente posso fare la classica unione unione celle poi da qui faccio sì selezione faccio addirittura anche il testo a capo mi manda se ce l'ho molto lungo però non è questo il caso angolo vediamo se ok sì posso fare il testo angolare posso farlo in una parte in un'altra posso sì che qui mi dice spese familiare ok insomma ho varie varie possibilità di orientamento verso alto verso basso o addirittura darline uno io cioè faccio che ne so testo a capo riduce adatta ecco riduce adatta unione celle gli dico quanto di quanto lo voglio di quanti gradi voglio inclinare il testo ad esempio questo meno 30 anche qui c'ho la casella in base a quello che seleziono qui lui mi porta me lo porta in alto in basso faccio ok ecco come me lo mette che è bruttissimo così per peggiorare la situazione gli do un giallino e anche già che ci sono me lo faccio 22 fenomenale ovviamente se tolgo unisci al centro lui perché gli ho detto prima di adattarmi il testo al contenuto quindi se prima era selezionato tutto questo il testo il testo era bello grande adesso togliendo di qui il colore c'è normale se qua gli dico formato allineamento cell riduce adatta ovviamente mi fa non più la scritta su due caselline ma me la rimpicciolisce fino a quando non sta tutta in una cella anche qui qui adesso addirittura lui non mi mostra di quanto il testo mi lascia sempre il calibri 11 ma ovviamente molto più piccolo se io ripremo qui formato allineamento cell e li tolgo riduce adatta faccio ok ecco che me lo mostra come prima poi vabbè qui ci sono già le formattazioni che abbiamo visto ecco qua un'altra cosa tanto questo cancello giusto per questa la sezione cose inutili cioè l'orientamento del testo però se vi volete divertire volete fare un calendario perché si possono fare anche i calendari con excel se volete fare le date in una maniera strana potete farlo anche così inserisci qui lo stesso se ho necessità di inserire che adesso mi metto qui sulla riga numero 4 faccio ho la necessità di inserire una riga o una cella faccio inserisci righe lui me lo porta in alto cioè in alto mi crea uno spazio vuoto dove posso scrivere non me lo fa in basso me lo fa in alto oppure qui inserisci celle ad esempio se io mi metto qua dove c'è il tipo vado qui inserisci inserisci celle qua invece mi dà la possibilità di dirmi dove la voglio mettere le nuove celle sposta a destra sposta in basso riga intera colonna intera ad esempio se io lascio questo qui sposta le celle a destra faccio ok dovrebbe spostare dovrebbe fare qualcosa ecco qua se io faccio colonna lui mi sposta la colonna se io faccio inserisci inserisci celle riga intera mi crea un'altra riga questa volta però me la fa in basso quindi se io vado qui inserisci inserisci celle riga intera da qua fa in alto non so perché comunque mi crea una riga vuota lo stesso posso posso fare lo stesso se vado col mouse qui su uno di questi numeretti cioè sulla riga tasto destro inserisci elimina cancella contenuto formato celle quindi io gli do il formato di tutti i dati presenti sulla riga di tutte le celle altezza riga nascondi scopri ad esempio nascondi ecco qui che questa dove c'è il papà mi è stata nascosta non la vedo più però vedo qui tra il 6 e l'8 vedo che manca il 7 che c'è uno spazietto un po' più grosso rispetto agli altri ci vado sopra col mouse tasto destro scopri e lui me lo dovrebbe mostrare ecco qua scopri mi ritorna mi ritorna di nuovo il papà la numero 7 se io invece premo sempre col mouse tengo premuto col mouse premo queste tre nuove che ho creato ci vado qui in uno di questi numeri tasto destro elimina ecco che lui me le ha eliminate oppure questa riga qui non mi piace quello che ci ho messo dentro voglio cancellarlo facciamo finta che questa sia una tabella con tantissimi dati che quindi le righe sono strapiene non si fermano solo qui ma continuano anche più in là invece di cancellare ogni singola voce una per una lo stesso vale anche per le colonne tasto destro inserisce elimina e tutto il resto quindi se io faccio elimina ecco che mi ritorno prima dicevo se io ho selezionato questa riga ci faccio tasto destro cancella contenuto lui mi cancella tutto quanto invece di cancellarlo io volta per volta cella per cella me lo cancella lui in un colpo solo tutto quanto lo stesso se vale per le colonne se io seleziono una colonna da qui in alto tasto destro cancella contenuto ecco che lo cancella volendo se excel bontà sua si decida a collaborare premo più righe come si premono più righe ad esempio io con il mouse adesso sto selezionando questo qui quindi tengo premuto il tasto sinistro del mouse lo mollo poi se voglio premere creare una selezione con più righe con più valori dalla tastiera tengo premuto il tasto control lo tengo premuto e con il mouse lo tengo premuto e seleziono altre voci che voglio evidenziare ad esempio queste qui ecco quindi io ho selezionato le righe 4 7 11 e 13 tasto destro vediamo no non me lo fa prima lo faceva e vediamo di nuovo ok quindi sempre tenendo premuto control cancella contenuto qui se excel non fa lo spiritoso dovrebbe cancellarmi tutte e quattro le righe i dati che ci sono nelle righe selezionate e infatti lo fa quindi posso cancellare delle colonne o singolarmente delle righe una o più oppure volendo posso vediamo se me lo fa anche per sì quindi io sempre tenendo premuto control posso selezionare sia una riga che una colonna tasto destro cancella contenuto ecco qua quindi invece di cancellare le voci una per una posso fare anche così cioè posso selezionarne più di una sempre tenendo premuto il tasto control altrimenti basta solo una selezione basta ad esempio questo qui facciamo questi tre qui ho premuto sempre control tasto destro cancella contenuto ecco questa cosa vi è più utile adesso sì io volevo chiedere una cosa sul mio Excel che io ho fatto tutti i conti della banca di tutte queste cose qua poi ho colorato due o tre celle a seconda di quello che voglio fare quando tolgo il colore e tolgo anche quello che c'è dentro mi vanno via anche le righe dell'Excel mi rimane uno spazio vuoto senza più righe e non so più come fare a fargli ritornare le righe iniziali di Excel cioè un attimo allora ad esempio qui adesso ho questa riga qui colorata di verde sì quindi ho tutte queste quattro celle colorate di verde con la scritta bianca se vado a toglierci il colore quindi viene bianco normale viene bianco sì a me vanno via con il font originale ovviamente perché qui è di dimensione 14 lo stesso come era prima qui è 14 grassetto se io vado qui su stili faccio normale mi ritorna a font 11 mi toglie il grassetto però non cancella nulla eh ma togliendolo togliendolo su due o tre cioè per esempio togliendo colorate quindi se io lo tolgo così seleziono tutte e quattro e faccio normale mi torna mi esce così mi ritorna come prima eh sì a me invece ma cancellando anche il contenuto a me non lo so come mai mi torna che rimangono gli spazi vuoti non ci sono più le righe quindi per cancellare tutto il contenuto qui ad esempio se premo il cancel del dalla tastiera ovviamente mi cancella ecco o io faccio il dopo eh sì seleziono cosa faccio beh sì io seleziono e poi cancello in realtà sì sì si seleziona tutto poi dalla tastiera o si preme con il tasto destro si fa eh cancella contenuto oppure sulla tastiera c'è il tasto cancel del a seconda della tastiera se io lo premo ecco che qui mi cancella tutto anche se infatti io vedo che cancellando a lei rimangono invece a me no va via adesso poi devo riprovare ma io cancello magari sbaglio delle cioè voglio spostare perché l'unico modo che mi viene in mente che lui cancella tutto è facendo elimina da qui premendo elimina che allora si cancella tutto forse sì forse faccio elimina perché facendo così selezionando tutta la riga e premendo qui il tasto elimina o tasto destro elimina da qui lui effettivamente cancella no ma poi mi rimangono a me rimangono proprio le celle ma vuote senza più righe cioè mi rimane excel e tutto fatto a colonne a righe quando io seleziono metti due celle colorate e poi tolgo il colore tolgo quello che c'è dentro di sfondo non ho più le righe mi rimane anziché due celle me ne rimane una sola più grande grande il doppio mi va via la riga di mezzo quindi adesso ne prova a selezionare due così queste due che sono colorate quindi abbiamo già visto che con normale lui rimette come prima ma se io provo a premere il pulsantino colore ovviamente qui ecco bianco sfondo bianco con scritta bianca ovviamente non esce nulla perché se io vado qui sulla metto nero sì il font va bene mi rimane sempre il solito questo poi lo posso aggiustare come voglio però non cancella non c'è più la riga che determina tra acquirente e data no perché non era stata messa all'inizio adesso facciamo così metto seleziono tutti i dati adesso li do un vediamo un po' come formata come tabella ne lo diamo vediamo un po' no beh questo vediamo un po' vediamo un po' ok quindi ok ho fatto un filtro formata formata ricopio i dati adesso faccio copia che era un nuovo foglio colla faccio così ecco vabbè la data posso anche eliminarla tanto in questo esempio non ci serve qui ingrandisco ecco qua adesso se io vado a fare formata come tabella dovrebbe darmi qualcosa ok no perché mi do il filtro andiamo un po' no facciamo così che è bruttissimo da vedere però almeno un po' di stile gliel'ha dato quindi qua ha messo le righe ok quindi facciamo finta che questi siano colorati io le righe non le metto proprio sono cioè non faccio la tabella perché ancora dato che Excel avevo iniziato un po' adesso imparando di più da lei andrò avanti proprio sull'Excel normale senza fare righe senza niente quando poi coloro però in modo tale che metta coloro due celle oppure coloro sia in orizzontale che in verticale quando tolgo il colore non mi ritorna più il fondo cioè mi mancano se io sono su due righe non c'è più la riga di fondo del normale Excel la riga leggera che mi forma invece di formarmi il colore lo metto su due celle togliendo il colore non ho più la divisione delle due celle nella Excel normale in questo in questo che io vedo mi rimane vuoto cioè non ho più la righetta tra una cella e l'altra e non so più come farla tornare rimane come una anziché do due celle mi rimane una cella sola senza la riga di mezzo che forma le due non so se sono riuscita a spiegarmi vediamo se ho capito bene allora quindi facciamo finta queste due adesso lei che cosa ha messo cosa c'ha di di dati qui che nomi ha messo qui che vuole cancellare no più che nomi ho messo i numeri i miei conti metto due conti non lo so quindi facciamo 22 e 24 220 ecco in verticale in genere in verticale uno il 24 e sotto mettiamo il 23 25 non so qualsiasi cosa c'è un 22 23 poi li coloro coloro ecco coloro facciamo questo verde questo verde ma è giusto un esempio ecco poi ho sbagliato così eh tolgo il colore anche solo togliendo il colore poi magari togliamo anche i dati sì tolgo il colore ecco vedi che non mi rimangono più le cose non mi rimane più la riga esatto mi rimane poi così vuota sì non ho più una riga di mezzo ha capito proprio così mi rimane togliendo nella cella unica quindi se io vado a cancellare sì rimane il ecco e non riesco più a mettere in mezzo voglio rifare capito adesso ecco allora ovviamente qualunque colore gli do qui ovviamente non c'è più la riga che mi consente di vederlo se io la voglio mettere seleziono le celle vado qui sì gli metto il bordo gli do un bordo banalmente lui me lo mette e ma più forte poi viene sì sì questo è giusto per vedere adesso se io riseleziono tutto gli do il colore bianco ovviamente lui mi mantiene il bordo ma se glielo tolgo gli indico nessun bordo ovviamente mi sparisce tutto questo perché perché le celle lui ha dato io adesso qui per ritornare per togliere lo sfondo gli ho fatto normale lui Excel ha messo il colore bianco ma le celle non sono bianche sono di un grigino molto chiaro ma non è bianco quindi in questo caso cosa bisogna fare bisogna andare qui dove c'è il secchiello si preme la freccetta qui dice nessun riempimento ecco qui che ritornano di nuovo le righine ma guardate sono diventata matta qui adesso ritornando di nuovo se io gli ridò di nuovo il verde ovviamente se voglio dare i bordi gli dico bordi esterni o tutti i bordi lui me li mette se io gli togli ecco che sono però normale gli tolgo il coso ovviamente anche qui tolgo il gli faccio nessun bordo se io vado a cancellare i numeri ovviamente qua non appare più nulla non appare questa striscia e infatti mi viene ecco potrebbe pensare ex è l'indemoniato no bisogna andare sul secchiello qui e scegliere nessun riempimento nessun riempimento ma si riuscivo a farlo io bene me l'ha risolto guardi perché diventavo matta ma come si fa a capirlo cioè diciamo che su alcune cose Excel non è intuitivo per niente ecco infatti anche perché non vedo cioè se io gli dico rimetto qui un altro colore adesso gli metto questo pesca chiamiamolo così c'ho di nuovo i dati 22 23 non voglio più il colore voglio soltanto lasciarci i dati la prima cosa di istinto che mi viene qua gli ho dato il colore qua glielo tolgo eh sì però facendo così mi dà un colore bianco ma come ho già detto un foglio non è proprio bianco bianco è un grigino molto chiaro quasi bianco ma non è bianco qui dovrei fare selezionare invece di dargli di scegliere il colore bianco devo andare giù e dirgli nessun riempimento nessun riempimento è come se lo rendesse trasparente giusto adesso l'ho capito ho capito proprio tutto è come se lo rendesse trasparente quindi in questo caso ritorna di nuovo la la righina ecco adesso vado a sistemare tutto il mio excel perché è tutto pieno di buchi di buchi bianchi lo stesso anche qui per il testo se c'è un testo che ne so facciamo questo blu lo rivoglio di nuovo gli metto automatico lui me lo mette nero invece di andarlo qui che magari excel potrebbe entrare anche in confusione ecco automatico o se no sì testo automatico e lui me lo riporta a nero ecco anche questo ha fatto bene automatico ha fatto bene a dirmelo perché ovviamente se voglio unire le celle faccio unisci e centra qui mi fa sparire il 22 il 23 me lo me lo fa sparire proprio perché me lo cancella anche attenzione non solo me lo fa sparire dalla vista ma lo cancella quindi quando si vogliono collegare più celle verticale e fare unisci allinea al centro meglio non farlo meglio fare altre cose che ne so 22 23 se io li voglio unire faccio unisci o unisci celle o dividi vediamo su unisci cosa mi dà ecco qui lui avvisa unendo le celle viene mantenuto solo il valore in alto a sinistra e gli altri vengono eliminati quindi adesso se premo ok mi elimina 23 mi elimina il 23 è già per formarne una sola la cosa la cosa più brutta chiamiamola così è che lui mi ha attivato il pulsante unisce allinea al centro anche se io non l'ho fatto perché ho selezionato unisci celle ma se vado a deselezionarlo lui mi ripristina di nuovo le due celle separatamente ma il 23 non me l'ho mostrato una volta che è cancellato è cancellato non ritorna più ma anche andando con il ritorno con la freccetta del ritorno quindi andando a capo facendo così quindi 22 23 quindi se io allargo qui no no non me lo dà no vediamo 22 23 così ma dovrebbe cancellarlo lo stesso se io faccio unisci sì me lo cancella questo succede solo se ho un testo o dei numeri molto lunghi che ne so facciamo testo lunghissimo che qua ovviamente se seleziono una cella vuota e ritorno sopra lui mi dice occupa occupa due celle ma se le voglio in verticale seleziono verticale faccio unisci dovrebbe unirmi sì ecco io faccio in genere a capo me lo devo sempre spostare io però se voglio fare un testo verticale ecco in quel caso anche qui mi tronca tutto quanto quindi se io tolgo unisci all'inal addirittura mi tiene solo una lettera quindi dovrei selezionare molte più celle che ne so facciamo così ritorniamo come prima che ne so ne prendo 10 faccio testo verticale vediamo così no allora devo prima unire e poi fare testo verticale sì quasi quasi ovviamente se lo tolgo lui mi cancella tutto mi lascia solo una lettera no io metto poi testo a capo in modo che mi si alzano riesco a fare quello poi facendo questa cosa qui sì facendo testo a capo ecco allora viene si alza la automaticamente ovviamente poi bisogna ingrandire in centro oppure esatto quello sono riuscita a impararlo l'altro quella delle celle non sarei riuscita mai ovviamente se c'è una cella molto grossa qui dice allinea il testo in alto al centro al centro esatto quindi al centro esatto vediamo in alto no cancella tutto insomma con il testo excel devo dire che è fantastico questo excel fantastico ci possono fare tantissime cose ma alcune non sono molto intuitive no alcune non sono proprio intuitive oppure ritornando di nuovo per un attimo adesso ricancello torno indietro ritornando di nuovo all'esempio di prima del colore quindi delle celle così questo qui quindi andando su volendo facciamo 16 grassetto così ok non voglio più il colore o vado su nessun riempimento oppure vediamo qui qui c'è cancella cancella tutto cancella formati contenuto commenti se ci sono commenti collegamenti per testuali vabbè cancella tutto lui cancella ad esempio se vado qui faccio cancella tutto ecco che mi cancella ciò che ho selezionato lo stesso se premo qui faccio cancella di nuovo cancella tutto cancella contenuto quindi se faccio cancella contenuto mi lascia la tabella così a righe verdi e bianche alternate altrimenti cancella tutto mi fa sparire fa tutto e rimane il fondo rimane il fondo esatto lo stesso vale anche qui come ho selezionato prima o faccio così dal secchiello gli dico nessun riempimento però mi lascia i dati i dati 23 altrimenti se voglio cancellare colore e dati vado su cancella cancella tutto ecco fatto ecco ho capito anche cancella tutto e rimane tutto se si vuole cancellare non solo il colore ma anche il contenuto delle celle sì anche così si può fare anche così sì e poi io a ogni spesa che è un po' particolare sì metto ho la possibilità io lo metto aspetta non mi ricordo più come si fa comunque si mette un commento e metto spesa fatta al giorno tal dei tali ecco io sono ora ho preso questo via qua in modo che quando voglio sapere a che cosa appartiene quella cifra vado su col mouse e subito mi viene esatto esatto ed è bellissimo ecco qui basta fare tasto destro inserisci commento ecco inserisci commento oppure togli commento ecco anche quello lì lo uso molto da riempire che ne so ovviamente qui quando c'è una cella con un commento c'è il triangolino rosso che mi fa indicare visivamente quindi se io senza schiacciare neanche ci passo sopra il mouse sì ed esce cella da riempire ovviamente se vado qui tasto destro modifica commento quindi lo posso modificare o elimina oppure posso anche mostrarlo nascondendo qui dice mostra nascondi commenti elimina ovviamente me lo toglie e dopo però non mi ricordo più se l'ho fatto o no io quindi lascio rosso meglio lasciarlo meglio lasciarlo lo stesso ci sono varie opzioni ad esempio ritroviamo di nuovo inserisci elimina cancella ricerca intelligente qui se ho vari dati voglio cercare ad esempio qua in vuoto non mi esce nulla ecco quello lì non l'ho mai fatto ricerca intelligente ricerca intelligente qui ho selezionato data lui mi dice dato questo qui però addirittura mi dà le pagine di wikipedia non so fino a che possano essere utili sinceramente non lo so però se io vado mamma ad esempio faccio qui voglio trovare mamma lui mi dice mamma sono tanto felice addirittura il vocabolario quindi la ricerca intelligente non è così tanto intelligente come dicono in questo caso quello non l'ho mai fatto basta fare trova e seleziona si fa trova ed ecco se io metto alimentari ecco qui che me lo trova questo è già più intelligente quell'altro è una ricerca ignorante uguale se voglio sostituire non mi va più alimentari sostituisci con mangiare sostituisci tutto se trova più voci così me le sostituisci tutto oppure solo questa qui trova tutti trova successivo oppure chiudi si questo è importante se uno vuol cambiare io faccio sostituisci tutto ecco che avevo due voci e me le ha qui mi dice e anche nei testi è molto utile ovviamente se come abbiamo visto prima avevo la tabella pv devo fare aggiorna se no quello entra in crisi non si capisce più niente è lo stesso quindi qua se seleziono una cella tasto destro faccio ricerca intelligente uno capisce può capire che si apre sto coso che dice primo gennaio qua mi da primo gennaio 2021 dice ma excel è rincoglionito che cosa addirittura c'è anche altro e quindi web fa il multimediale o guida se io faccio guida che mi dice no alla guida il primo gennaio c'è nulla disgraziati fa il multimediale mi trova le foto fate tutte il primo gennaio di chi sono queste sono delle violette quindi volendo mi piace sto foglio cosa c'è qui ci sono i tre puntini contrassegna come inappropriato addirittura non siamo così cattivi se io lo premo copiato ah me lo copia quindi faccio incolla e mi ah ma addirittura mi incolla anche il fiorellino di campo ah e qua posso cambia immagine sì carino da icone da origine online da immagine archivio vediamo da icone cosa mi dice non mi piace più il fiore voglio la mela voglio questa mela brutta e grigia vediamo un po' che bello che bello però non posso farci nulla attenzione però posso farci un formato di che cosa non si sa posso cancellarlo e qui posso dargli il bel colore arancione altrimenti che colore faccio altri colori qua mi da tutta una serie di roba faccio sto coso tristino ovviamente la posso anche ripicciolire ripicciolire tutto quello che vuoi cosa mi da qui formato vediamo un po' effetti grafica preimpostato quindi cosa mi da rotazione 3D se io lo faccio così che bella mela ah ma guarda è interessante gli posso dare anche il bordino azzurro eccezionale riempimento l'abbiamo già dato ombreggiatura se io gli do un'ombra così anche carino davvero questa poi la stampo e la vendo a 1000 euro divento artista non faccio più lezioni di Excel gli do all'arte con le icone o se è vero qualcosa può servire perché se io prendevo qui lo chiudo io adesso mi è salita la curiosità se io faccio papà e faccio ricerca intelligente vado su fai il multimediali che mi dice il papà eh già non c'era la cera non c'era c'era chi mi da anche il papà Luciani chi mi dà chi mi dà tutto torna agli inizi ma veramente quindi se io accanto alla mela voglio il papa lo posso fare attenzione perché se io qui faccio converti forma no cambia grafica da icone vediamo se qui me la dà voglio vedere se c'ho la luna no la luna non me la dà disgraziati perché se c'era la luna potevo mettergli la foto di papa Luciani invece con la mela non fa no vediamo pizzeria almeno qualcosa o l'autobus dovrebbe darmi una ricerca un po' più intelligente e non ignorante vediamo fai il motivo che mi esce eccoli qua tutti quanti questo è più carino faccio copia incolla l'autobus che investe la mela è un qualcosa di unico anzi se lo metto sopra quindi porta in primo piano questo lo porto in basso porta indietro ecco qua ecco la mela che cerca di entrare abusivamente sull'autobus senza biglietto questo la vendo a 2000 euro questo la vendo a 2000 Adriano vi devo lasciare che ho il corso di francese esatto noi ci vediamo domani ci vediamo domani quindi domani chi